Con l'arrivo del caldo, gli elicotteri dei carabinieri tornano a sorvolare i monti lattari, dove negli ultimi anni si sono susseguiti i sequestri di piantagioni illegali di marijuana. 525 le piante individuate dai militari durante l'ultima operazione sulle alture della costiera sorrentina. Alte tra i 70 cm e il metro e 10, le piante sono state localizzate in località Capomazzo, sui monti lattari e successivamente sono state distrutte dai militari della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo elicotterista di Ponte Cagnano-Faiano. Necessario l'intervento dell'elicottero per individuare la piantagione realizzata in un'area difficilmente accessibile da terra. L'ultimo blitz dei carabinieri nel territorio denominato la Giamaica del Sud Italia, avvenuto nel mese di agosto di un anno fa, aveva portato al sequestro di quasi 2000 piante di marijuana. Ora le indagini sono rivolte all'individuazione dei responsabili della coltivazione illegale.